1392 qualcuno scrive chiunque violenti una donna paghi una pena pecuniaria altissima oppure gli venga tagliato un piede affinché lo perda è rivoluzione questo proveremo a raccontare con la musica con le parole e con le voci di donna andrea congia le parole elaborate da me questo c'è nella carta del logo